Quali siano i risultati dei tanto decantati progetti dell'amministrazione comunale non lo sa ancora nessuno. Luigi Amore ha avuto facile gioco a intervenire oggi in consiglio comunale. Le celebrazioni monteverdiane giovano all'intera città o si può celebrare il musicista in un altro modo? Restano un mistero gli esiti della Smart City. Non si sa ancora come funzioni precisamente il contrasto all'amorosità, finanziato dalla regione con 100.000 euro. La Giunta emette proclami e annunci ma la dimostrazione degli effetti positivi non si vede. Si parlava di un fondo di solidarietà che doveva essere il fiore all'occhiello e poi è sparito dall'orizzonte. Durante l'approvazione della quinta variazione al bilancio previsionale 2016-2018, presentata dall'assessore Manzi, ci sono state spine dolenti anche se i vincoli di finanza pubblica sono stati rispettati. Il guaio è in quegli 8 milioni di euro messi nel fondo crediti inesigibili, come ha ammesso da parte della maggioranza Enrico Manfredini. Il 10% del bilancio dipende da crediti che il Comune in buona parte non incasserà mai, tra fallimenti di imprese, insolventi e vari effetti della crisi. Soldi che però sono stati anticipati a spese dal Comune. Il sindaco Galimberti non arriva a dire che non ci sono più soldi, ma che è molto quel che si riesce a fare grazie al contributo dei privati nell'anno del risanamento di AEM più che in altre città e che il metodo per i prossimi anni sarà ancora questo. Si proseguirà a braccetto con i privati e i progetti finanziati dalle banche. Fra le minori entrate ci sono le multe, 400 mila euro che non dovranno più essere pretesi dai cittadini a ridimensionare gli allarmi del recente passato. Ci saranno di nuovo continue variazioni di bilancio per monitorare la spesa e dunque arriverà un'altra slavina di rideterminazioni di spesa. Nel piano delle opere pubbliche brilla il primo lotto della ciclabile per Cavatigozzi, completato e asfaltato, con i costi ridotti di 102 mila euro. Viene rimandato di un anno però il parcheggio di Via Lunga Stretta, che doveva dare respiro a Via Giordano, stressata dai suoi 20 mila veicoli al giorno, un traffico degno di un'autostrada. Serie di lavori pubblici in vista per il Maristella, ristrutturazione anche per il Palazzo Faitati e Palazzo Grasselli. Il sindaco Galimberti ringrazia il governo. Cremona resiste così, nella speranza che altri progetti siano finanziati l'anno prossimo da Cariplo Regione e dai Ministeri. Il Comune, secondo i critici, perde indipendenza, legandosi sempre di più ai privati, in ogni settore. Intanto, fuori da Palazzo Comunale, la pioggia ha posto fine alla serie nera di giorni con le polveri sottili e alte. Anche la discussione sullo studio epidemiologico, proposto dai 5 Stelle però, viene rinviato a dicembre, dopo il referendum costituzionale.